Rientro a scuola senza mascherine, così almeno per il momento, lo ha detto il sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso, parlando del ritorno a scuola a settembre degli studenti italiani a margine di un incontro istituzionale avuto questa mattina a Montesilvano con il sindaco Ottavio De Martinis prima di un sopralluogo all'istituto comprensivo Troiano Delfico. È chiaro che noi dobbiamo sempre stare attenti a quelli che sono gli indici, a quelli che sono i pareri degli esperti. Ad oggi potremo tranquillamente entrare a scuola senza mascherina. Due giorni fa sono state pubblicate finalmente in gazzetta ufficiale le linee guida sugli impianti di reazione che hanno visto il sottoscritto e la Lega in particolare sulle barricate per due anni. Purtroppo noi scontiamo l'incapacità politica di un ministro della salute che si chiama Roberto Speranza che ce le ha mandate con cinque mesi di ritardo. Ora c'è un problema però che è quello delle coperture economiche dove sinceramente io ho più volte sollecitato sia il presidente che il ministro dell'istruzione Bianchi però purtroppo nel decreto aiuti non ci sono state le risorse che noi speravamo. Mi auguro che la prossima settimana in un successivo decreto si possano stanziare ulteriori risorse dopo quelle che grazie alla Lega sono state stanziate nel decreto sostegno 1 a marzo, circa 150 milioni di euro. Il sottosegretario ha poi parlato dell'importanza della stabilizzazione degli insegnanti precari che anche in Abruzzo aspettano le risposte del governo. Il sottosegretario ha sottolineato il ruolo avuto fino ad oggi dalla Lega. Sono 60 anni che mancano gli insegnanti, il punto è che noi abbiamo circa 250 mila insegnanti precari. Dobbiamo stabilizzarli perché stabilizzandoli ce li abbiamo in cattedra il primo settembre senza aspettare ogni volta tutte le operazioni. I concorsi sono stati un flop, i concorsi a crocette voluti dal 5 Stelle e dal PD sono stati un flop. Abbiamo trovato domande sbagliate, abbiamo visto insegnanti penalizzati. Ecco, noi pensiamo che non ci sia niente di meglio di un maestro o una maestra che già insegna da 10-15 anni con i nostri figli e non ha nulla da dimostrare.